bella a tutti asfaltoni benvenuti sulle untube su a9 ita switch in questo video andiamo a vedere che cosa succede quando non riusciamo a qualificarci sia in q1 che in q2 andiamo qui nel grand prix ovviamente negli eventi speciali purtroppo non siamo riusciti a qualificarci abbiamo ancora 20 ore quindi un giorno diciamo da stamattina per poter decidere di partecipare ai round finali dovremo pagare 500 token se vogliamo partecipare ovviamente un po li recupereremo con i premi giornalieri diciamo già qui ne andiamo a recuperare 15 ad esempio in più andiamo a guadagnare tutti questi pacchetti oltre a guadagnare i premi quindi questa poi è una scelta personale se vi conviene o no fare partecipare al grand prix se qualora non vi siate qualificati e in q1 e ne in q2 andiamo quindi poi ad iscriverci in questo caso vedete siamo qualificato qualificato e quindi siamo in attesa dei round finali mancano queste 19 ore queste 20 ore ma possiamo andare a completare questi premi qua e quindi andiamo a vedere ora magari se c'è convenuto abbiamo questi pacchetti qua dove poter trovare progetti della senna gtr e ne abbiamo anche 20 finali completando tutti gli obiettivi andremo a vedere poi quanto sarà il nostro drop e quanti pezzi riusciremo a trovare intanto vediamo dobbiamo ancora fare sei avvitamenti e poi iniziare a fare tutte queste quindi cinque volte raccogliere sei taniche battere 117 anzi 116 500 tre volte andiamo quindi a fare questa pista allora attenzione questo caso se per caso aveste fatto della strategia per avere tempo più basso vedete qui il mio miglior tempo in allenamento 1 13 229 è anche il mio miglior tempo nelle qualifiche perché in q qui nel q2 ho fatto veramente pessimo ho fatto 1 13 adesso non lo fa più vedere 1 13 quasi 1 14 miglior tempo e nella q1 avevo fatto 1 13 13 comunque un tempo in linea ora che succede se andando a fare gli allenamenti per prendere i premi andiamo a migliorare il nostro tempo quando creeranno i gruppi i tir prenderanno in considerazione il nostro miglior tempo quindi anche se andiamo a farlo adesso quindi se volete salire di tir cerco provare a stare un tir più alto tanto vale spingere provare a migliorare il tempo avete tutto il tempo praticamente se invece volete rimanere avete fatto un po di strategia siete avete cercato di rimanere un tir un po più basso non vi conviene migliorare il vostro tempo da towel devo ascoltare un pozzò non vi conviene migliorare il nostro ammo e fulgare al giro è un pozzò ormai 8 8 9 8 9 10 Altissimo qui Stare alto ovviamente non è una cosa buona Ok abbiamo fatto Oh non ho visto gli avvitamenti Abbiamo fatto comunque il tempo di un ecco fatto Le tani che l'abbiamo presa Non ci avevo pensato Mi stavo dimenticando E quindi andiamo avanti Ecco qua che abbiamo raggiunto Tutti gli obiettivi Eccoli qua Li vedete gli ultimi tre che mancavano Andiamo a vedere cosa troviamo E poi saremo pronti da domani Per fare il round 1 Ci sono 20 pacchetti Vediamo quanti progetti riusciamo a trovare Già due che è buono Purtroppo qui va assolutamente a fortuna Ok andiamo a prendere quattro progetti Quindi niente male Alla fine quattro progetti Meglio di niente E niente Chiudiamo qui il video Se vi è piaciuto mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici Nei vostri social Non dimenticate di lasciare un commento E come sempre se vi va Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale E non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere i nostri aggiornamenti Ciao a tutti